Leila, acronimo di Legalità, Educazione, Integrazione, Lavoro, Associazionismo, un importante partenariato tra istituzioni diverse, finalizzato a realizzare iniziative di sensibilizzazione e di educazione all'antimafia, e che a Taranto vede protagonista il liceo delle scienze umane Vittorino da Veltre, con il coinvolgimento del Tribunale per i minori. Tutti insieme lavoriamo per una finalità comune, che è rassunta nel titolo progettuale Cantieri di antimafia sociale, perché ovviamente noi abbiamo lavorato per limitare l'eventuale dispersione, gestire la devianza e il disagio, ma soprattutto insegnare ai ragazzi a riappropriarsi attraverso la legalità del proprio territorio. Anche nelle realtà caratterizzate da una cultura criminale c'è sempre la possibilità di una scelta, c'è sempre la possibilità di scegliere e di improntare la propria esistenza a quei valori del vivere civile, ai nostri valori costituzionali di libertà, preferendo invece questa cultura a quella della mafia o comunque a quella della criminalità. Progetto approvato dalla Regione Puglia con il proposito di favorire la rigenerazione sociale e urbana. Il Dipartimento Ionico dell'Università Aldo Moro ha ospitato la conclusione dei lavori. Una tematica così importante che sta a cuore a noi come professori, ma soprattutto ai ragazzi, quindi la dispersione, la lotta contro le mape, sono tematiche di straordinaria importanza e avere oggi questo tipo di connubio, di sinergia è fondamentale.